Dopo i vari strumenti di intelligenza artificiale come Leonardo AI, Mi Journey, Instant Art che ho portato su questo canale, oggi vi parlerò di un nuovo strumento molto interessante, del tutto gratuito, che vi permetterà di generare immagini come queste. Vi chiedo di guardare tutto il video perché ci sono molti argomenti che necessitano di attenzione. Passiamo al sito, prima però ti invito ad iscriverti al canale ed attivare la campanellina. La prima cosa da fare è registrarsi al sito, andiamo su pixai.art, clicchiamo su registrati, abbiamo le solite modalità di registrazione, in questo caso io mi sono registrato con l'account Google. Una volta registrati, questa è la pagina principale di questo strumento. Ci sono diverse cose da sapere. Lo strumento ad oggi è gratuito ed ha un meccanismo a crediti, un po' come Leonardo AI. Quindi se noi andiamo nel nostro profilo, clicchiamo qui, profilo, clicchiamo su crediti, possiamo notare che alla registrazione ci ha dato 3.000 crediti. Lo potete notare da qui. In più ogni giorno ci dà 10.000 crediti. Cosa importante da sapere è che questi 10.000 crediti bisogna richiederli tutti i giorni. Non vengono accreditati automaticamente come ad esempio fa Leonardo AI. Quindi ogni giorno dobbiamo andare su questa pagina, oppure una volta che cerchiamo di generare un'immagine, ci uscirà il banner per richiedere i nostri 10.000 crediti. Come potete vedere, qui ci dice quanto resta prima che ci ridanno questi crediti. Detto questo, andiamo a vedere come generare un'immagine. Ci portiamo sulla pagina principale, clicchiamo su Genera. Allora abbiamo due possibilità per spendere i nostri crediti quando generiamo un'immagine. La prima modalità è la modalità Priority che possiamo trovare qui. Se la selezioniamo, impiegherà poco tempo per generare l'immagine, però questi sono i crediti che ci vogliono. Mentre se non la selezioniamo, quindi utilizziamo una modalità più lenta per generare la nostra immagine, ci richiederà molti meno crediti. Allora io per provare, per farvi vedere questo strumento, utilizzerò la modalità Priority. Devo dire che ho provato a creare un'immagine senza la modalità Priority. Una volta cliccato su Genera, mi diceva che ci volevano all'incirca 15 minuti, ma in realtà ce ne sono voluti forse 3-4. Però il mio consiglio è comunque magari quello di utilizzare sempre la modalità Priority, perché con la modalità Priority veramente ci vogliono pochi secondi. Chiaramente i crediti che ci vogliono per generare un'immagine dipendono anche dalla configurazione che abbiamo impostato qui sulla destra, che andremo a vedere tra un attimo. Questo strumento ha tante opzioni. In questo video voglio spiegarti le basi per come iniziare ad utilizzarlo. Se ti interessa questo strumento e vuoi sapere tecniche ed impostazioni più avanzate, scrivimelo nei commenti. Se ci saranno molte richieste, farò un altro tutorial ancora più completo. Ok, ora andiamo a vedere tutte le opzioni di configurazione per creare un'immagine. Allora, qui abbiamo lo spazio, il classico spazio dove inserire il prompt. Qui invece abbiamo la voce Priority che vi ho appena spiegato. Quindi se la selezioniamo utilizziamo più crediti, ma minore sarà il tempo per la generazione. Mentre se non la selezioniamo utilizzeremo meno crediti, ma maggiore sarà il tempo per la generazione della nostra immagine. Mentre qui abbiamo tutti i modelli che possiamo utilizzare. Come potete vedere ci sono tantissimi modelli. Questo è quello che ci interessa di più, che è quello che serve per le foto realistiche. Mentre, ad esempio, questo serve per le foto realistiche, ma utilizza personaggi asiatici. Quindi come abbiamo visto anche, per esempio, su Leonardo e AI, ogni modello è addestrato su immagini diverse. Quando lo selezioniamo, quindi in questo caso che abbiamo selezionato questo modello per creare immagini realistiche, anche gli altri settaggi che sono sotto, ad esempio il prompt negativo, vengono di default cambiati. È chiaro che tutti questi settaggi li possiamo comunque modificare e aggiustare a nostro piacimento. Oltre a tutti questi modelli, qui possiamo caricare altri modelli direttamente dal market. Quindi ci basta cliccare su questa voce e dalla lista poi selezionare un altro modello. Un po' come abbiamo visto anche con Leonardo e AI. Qui possiamo aggiungere uno stile specifico con l'ora, che in pratica è un modificatore per modelli di intelligenza artificiale. Però lo andremo a vedere nel caso vogliate un tutorial completo su questo argomento. Sotto abbiamo la dimensione, abbiamo queste tre scelte che possiamo fare. Qui invece ci sono il numero di immagini generate. Allora di default è impostato sul per 4, quindi sono 4 immagini generate, ma possiamo anche andare a generare una singola immagine. Come vedete ogni volta che cambiamo, cambiano anche i crediti che ci richiede. Quindi per 4 immagini ci richiede 1800 crediti, per una singola immagine 1400. Chiaramente sempre con la voce priority attiva, se la disattiviamo sono solo 400. Su questa voce possiamo, se attivata, ci darà un'immagine con più dettagli e più qualità, ma ci consumerà molti più crediti. Quindi io preferisco non attivare questa voce perché come vedete consuma tantissimi crediti. Sotto abbiamo il control net e la composizione, l'abbiamo visto in Leonardo AI ed in altri video. In pratica il control net ci permette di caricare un'immagine e di prendere la posizione del soggetto come riferimento per la nostra immagine che vogliamo generare. Qui abbiamo il prompt negativo, che cambia in base al modello scelto, ma possiamo comunque modificarlo noi. E qui invece abbiamo le classiche impostazioni per la generazione delle immagini. In alto, qui mi sono dimenticato di dirlo, possiamo utilizzare un'immagine come riferimento oppure addirittura possiamo disegnare qualcosa. Andiamo a fare qualche esempio. Voglio creare una donna sui 25 anni bionda. Andiamo ad inserire il prompt. Impostiamo per 4 immagini. Clicchiamo su Let's Go. Come vedete ragazzi, con un semplice prompt ci ha dato un risultato veramente interessante. Questo è proprio quello che gli avevo chiesto, quindi un'immagine ultra realistica di una donna di 25 anni con i capelli biondi. Quindi mi sembra veramente un ottimo risultato. Ma non è finita qui perché noi comunque possiamo andare ancora di più a modificare, ad aggiungere dettagli a questa immagine. Se passiamo col mouse sull'immagine possiamo vedere che abbiamo in alto queste tre voci. Allora la prima voce è la voce Edit, quindi possiamo andare a modificare la nostra immagine. La seconda voce è Usa questa immagine come riferimento. Un'altra cosa che possiamo fare è la possiamo scaricare. Quindi qui possiamo scaricare l'immagine. Se clicchiamo sulla voce Variazione, qui possiamo andare a creare praticamente una variante di questa immagine. Mentre su quest'altra voce possiamo andare a creare l'appscale. Come vedete sotto possiamo andare a modificare il metodo. Possiamo andare a modificare questi altri settaggi. Proviamo ad esempio un prompt con una città. Inseriamo il nostro nuovo prompt. Però questa volta per farvi vedere lasciamo il modello questo su realistico, ma mettiamo una singola immagine. Ecco ragazzi, come vedete anche questa immagine non mi sembra niente male. Mi sembra un'immagine onestamente abbastanza realistica. Ma anche qui possiamo comunque andare a modificarla creando delle varianti. Oppure andiamo a fare l'appscale e quindi andare a migliorare poi l'immagine e i dettagli. Allora ragazzi, un'altra prova che ho fatto. Ho inserito questo prompt. Come potete vedere. Quindi dice di un'immagine di una ragazza di 20 anni. Questo è un prompt che ho preso da un'altra prova che ho fatto su Leonardo AI. Queste sono le quattro immagini che mi ha generato. È veramente qualcosa di incredibile perché le immagini sono veramente super realistiche. Guardate ragazzi. E come vi ho detto prima, considerate che questa immagine deve essere ancora migliorata. Perché se noi andiamo poi a cliccare qui, dobbiamo ancora fare l'appscale. In questo caso io lo vado a fare, così vi faccio vedere. Ecco, come vedete ragazzi, l'appscale è finito e quindi ha migliorato i dettagli di questa immagine. Ultimo prompt da provare è questo. Allora, una cascata nella foresta. Come vedete ragazzi, se andiamo ad inserire una sola immagine e togliamo la modalità priority, questa immagine ci costa solo 100 crediti. Ok, quindi io già l'avevo preparata. Andiamo a selezionarla. Questa è l'immagine che mi ha generato. Mi sembra veramente interessante, oltre che ultra realistica. Perché come vedete ragazzi, ci sono tutti i dettagli, ma non mi sembra un'immagine generata dall'intelligenza artificiale. Mi sembra una foto fatta in realtà in qualche posto nel mondo. Questa è un'altra prova che avevo fatto. Come vedete ragazzi, anche da questi semplici prompt, le immagini sono veramente ultra realistiche. Sono veramente qualcosa di incredibile. Quindi, come avete visto, questo strumento ci genera delle immagini di altissima qualità. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e dimmi se vuoi un video ancora più completo su questo strumento. Che ancora non è molto conosciuto, ma credo che lo sarà molto presto. Perché è davvero fantastico. Iscriviti al canale, lascia un like se ti è piaciuto il video. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao! 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 Ciao!